Cari amici, buongiorno. Oggi è martedì 5 maggio e volevo leggere dalla lettera agli fesini di Paolo al capitolo 5 il versetto 15 e il versetto 16. Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da storti ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Paolo scriveva ai cristiani di Efeso del 60 d.C. delle parole che risuonano quanto mai attuali. Il tempo è la nostra vera ricchezza e se spesso al centro delle riflessioni bibliche l'Apostolo dà per scontato che noi tutti non siamo molto bravi a gestire il nostro tempo e ci dice non c'è più tempo da perdere, è ora di considerare il momento difficile, è ora di recuperare il tempo perché i tempi sono malvagi. Nel 1947 un gruppo di scienziati creò il Doomsday Clock, l'orologio del giudizio, un orologio virtuale dove la mezzanotte rappresenta il momento simbolico in cui il genere umano potrebbe annientarsi a causa delle sue azioni responsabili. A quel tempo il pericolo più grande derivava dalle armi nucleari. Così nel 1953 le lancette furono spostate a due minuti dalla mezzanotte. Nel 1991 invece con il miglioramento dei rapporti tra gli Stati Uniti e la Russia furono riportate indietro di 17 minuti. In seguito alle lancette dell'orologio del giudizio sono state riposizionate considerando le catastrofiche previsioni dei cambiamenti climatici o la corsa agli armamenti spaziali. Ma a gennaio del 2020 gli scienziati e diversi premi Nobel hanno riposizionato le lancette del Doomsday Clock a soli 100 secondi dalla mezzanotte. Negli ultimi 73 anni, secondo loro, secondo questi esperti il mondo non è mai stato così vicino alla sua fine. Ci hanno detto avete ancora 100 secondi per recuperare il tempo, per portare indietro quelle lancette e per evitare la catastrofe. Qualcuno questa mattina si chiederà ma come faccio a recuperare il tempo? Ormai ho perso l'occasione, non ho approfittato del tempo favorevole, vivo di rimpianti, vivo con un forte senso di colpa per il tempo che ho sprecato e non tornerà più. Che ore segnano le lancette dell'orologio della mia vita? Quanto manca la mia mezzanotte? Non c'è essenziato sulla terra che ce lo possa rivelare. Recuperare il tempo. Quando in una partita di calcio ci si avvia la fine del tempo regolamentare, il quarto uomo alza una lavagnetta luminosa dove sono annunciati i minuti di recupero e a volte le partite si vincono proprio nei minuti di recupero. I cronisti sportivi italiani hanno definito quei minuti la zona Cesarini. Il ricordo di una rete che il centrocampista Renato Cesarini segnò al novantesimo minuto permettendo alla nazionale italiana di battere quei lungherese nel 1931. Quanto sono importanti i minuti di recupero? Sono un'ultima occasione. Il ladrone crocifisso vicino a Gesù si salvò in zona Cesarini. Altri cristiani di tutti i secoli hanno deciso di servire Dio nei minuti di recupero. Altri ancora proprio in questi giorni difficili hanno deciso di recuperare il tempo, il tempo perduto e di affidare la loro vita al Signore e di cambiare il loro comportamento. Caro amico, cara amica, non importa quanti anni hai e quale sfida tu stia affrontando, ma questa mattina ti voglio dire non ti arrendere. Il Signore ti può aiutare a vincere nei minuti di recupero. È vero i giorni sono difficili, non c'è più tempo da perdere, ma tu puoi ancora recuperare il tempo perduto. E detto questo ti auguro una buona giornata e che il Signore ti benedica.